Mi auguro che possa servire l'amministrazione comunale, sicuramente è servita ai cittadini, penso. Accidenti se potrei essere utile. Un'utilità c'è sempre quando delle idee vengono messe insieme. Benissimo, una bella idea, spero che queste idee che abbiamo anche concretizzato vadano oltre. Può offrire un'opportunità per il futuro, si spera che ci sia l'amministrazione a sostenere, una straordinaria partecipazione, per quanto mi riguarda assolutamente inaspettata. Non sono tanto convinto che questo porta aperte verso l'amministrazione sia efficace, sia una vera volontà e non sia solo una facciata. Le opportunità ci sono senz'altro, perché quando i cittadini in qualche modo sono convocati per parlare di quella che ha la loro visione della città, è senz'altro un effetto positivo. Le impressioni sono molto positive, quasi 200 persone oggi, un sabato, hanno deciso di dedicare un po' del proprio tempo, non per le proprie necessità, non per i propri bisogni, ma per la collettività. Saranno valutate da un forum tematico che guarderà se queste proposte sono realizzabili, se non sono realizzabili dovrà dire la motivazione. La popolazione va promossa? Sicuramente sì, insomma 200 persone sono un bel numero. Cittadinanza promossa. Cittadinanza promossa.